Amo, te prego, basta, malesseri. Amo, te lo giuro, da questa volta basta. Basta, ragazzini, voglio un uomo. Un uomo, un uomo, sì. Minimo, minimo, ci deve avere 35 anni. Anzi, te dirò, sulla quarantina ancora meglio, più maturo. Ma che davvero? Sì, sì, sì. Allora, c'hai presente i palestrati? Eh. Ecco, no. Cioè, lo voglio pure con la panzetta. Sì, perché basta, palloni gonfiati, cioè, sono tutti montati, capito? Basta, basta, lo voglio non pelato. No. Con i capelli ancora. Pure un po' brizzolato, va bene. Però con la barbetta. Non colta, sì. Poi sai che ci dovrebbe avere? No. La barca. Però non ha barca grande, eh, c'è una barchetta. Sì, giusto che... Ma, cioè, dove trovi un uomo con la barca? Amo, ci sarà un uomo dei 40 anni con la barca, sì, dai. Sì, giusto per prendere un po' di sole a largo. Cos' andiamo insieme? Ma vengo pure io. Sì, giusto. Però, amo, la cosa più importante... Che cosa? Ci deve avere origini latine. C'è di latina? Sì.